Due psicologi psicoterapeuti nei 18 istituti penitenziari con la funzione di ascolto, supporto e orientamento al personale sanitario e penitenziario. Questo è il cuore del progetto La Salute in Carcere, presentato nella sede della Presidenza della Regione Toscana a Firenze, approvato dalla Giunta su proposta dell'assessore al diritto alla salute Stefania Saccardi e finanziato con 24.000 euro. Ed era immersa comunque la necessità, a fianco delle tante attività che facciamo a sostegno dei detenuti, e anche di fare qualche attività a sostegno della Polizia Penitenziaria, che vive in qualche modo anche essa stessa la difficoltà delle situazioni del carcere sulla propria pelle. Il progetto, frutto del lavoro del Centro di Riferimento Regionale sulle criticità relazionali, in collaborazione con l'Ordine degli Psicologi, prevede che i due professionisti siano presenti due volte al mese in ciascun istituto. Obiettivo? Prevenire il disagio degli operatori penitenziari, 2.900 in Toscana, a fronte di un lavoro gravoso e con molte componenti di stress. La necessità di assumere decisioni in tempi brevi, la necessità di assumere anche delle responsabilità notevoli, e questo determina appunto un peso psicologico particolarmente importante, che se talvolta è giunto anche problematiche personali e familiari, può determinare le situazioni di disagio. Già nel 2018 sono state avviate visite negli istituti penitenziari toscani, per capire le problematiche che gli operatori penitenziari devono affrontare.